Sarà un weekend all'insegna dell'imprenditorialità siciliana. Una serie di incontri a cui prenderanno parte il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri e il deputato regionale in Commissione Attività Produttive Mattia Fantinati per dare il via al laboratorio di imprese del Movimento 5 Stelle. Un tour delle attività economiche virtuose dell'isola, ha spiegato Giancarlo Cancelleri, per valorizzare tutte quelle realtà che fanno impresa e pensare ad un'economia che non sia ancorata al pubblico. È fondamentale perché solo così la nostra terra può ripartire, conclude Cancelleri. Nelle prossime ore, infatti, Di Maio, Fantinati e Cancelleri incontreranno alcune aziende della provincia di Palermo per poi raggiungere il prossimo sabato un'azienda siragusana, ragusana ed infine catanese. Domenica, invece, sarà la volta della provincia nissena con San Cataldo, Canicattì, Sommatino e Caltanissetta. L'iniziativa si inquadra in vista delle prossime elezioni regionali e politiche.